Guardi, io l'ho detto già quindi non dico niente di nuovo. Per me in questo momento è chiaro che se vogliamo un'Unione Europea forte, un'Unione Europea che sia in grado ad esempio di istituire il tetto massimo al prezzo del gas, che è una battaglia importantissima per ridurre i costi delle bollette delle famiglie italiane, delle imprese, dell'energia, è chiaro che a noi serve più europeismo. Ovviamente il sovranismo tende a chiudere gli Stati e a distruggere l'Unione Europea, tende a chiudere gli Stati e a distruggere la Nato. Noi invece abbiamo bisogno di forze europeiste che rafforzino l'Unione Europea perché se stiamo parlando ad esempio di difesa europea è perché noi vogliamo proteggere di più le nostre famiglie, le nostre imprese nei nostri territori nazionali. L'investimento comune nella difesa, nella politica estera europea e negli altri obiettivi che abbiamo di fronte credo che sia fondamentale.